In ogni caso noi siamo contro questa dichiarazione di decadenza da parte del Senato e abbiamo votato, combattuto conseguentemente, ritenendo che si stia scrivendo una delle pagine più brutte del Parlamento italiano. Riteniamo che sia stato un errore da parte della Giunta alle elezioni quella di non aver sottoposto alla Corte Costituzionale l'interrogativo sulla costituzionalità della legge Severino, visto il suo uso retroattivo nei confronti di Silvio Berlusconi. Di conseguenza confermiamo che non solo continueremo a condurre la battaglia contro l'uso politico della giustizia, ma anche quella per una sua profonda riforma, in parte riflessa anche nei sei quesiti referendari presentati dai radicali e da noi firmati.